La Polizia è sempre molto attenta a queste iniziative che condivide e alle quali partecipa in pieno e l'opera di sensibilizzazione deve passare attraverso sia questi incontri che anche tante altre iniziative che la Polizia di Stato svolge e la Polizia Postale in particolare delle comunicazioni nelle scuole, con le aziende e con tutto il pubblico perché la sicurezza di internet, dell'utilizzo di internet passa sicuramente da queste attività e da questi incontri.